portacaricatori in canvas verde molto datato anni 50 60 in tessuto di cotone cotone ritorto doppio bottone automatico per chiuderlo alto e basso a seconda dell'altezza dei caricatori che intendiate mettere aperture al di sotto per non trattenere polvere sporcizia e i liquidi vari robustissimo costruzione vecchio tipo sul retro troviamo i caratteristici ganci metallici da cinturone qui in mezzo passerebbe il cinturone due anelli metallici sotto due occhielli che poi andremo a vedere per cosa servono e un altro gancio metallico sulla parte superiore e due passanti da spallaccio come funziona come funzionava questa parte qui poteva essere agganciata anche sul cinturone del tipo occhiellato oppure poteva essere messo insieme ad un altro caricatore portacaricatori semplicemente inserendolo negli appositi occhielli ecco qua doppio e qui dove vedete questi passanti si faceva passare la tracolla dello spallaccio raddoppiando così la portata dei caricatori accurate ecco qua concretwno ecco qua ecco qua